Un nuovo programma gestionale maggiormente performante, più veloce e in grado di rispondere alle esigenze del cliente. Si chiama NET Chiocciola 2A, il nuovo programma in uso a Etra. È il gestionale che processa i contratti, le bollette, i dati degli utenti e molto altro. È l'interfaccia tra azienda e utenti, il sistema utilizzato quotidianamente dagli sportali di Etra, da chi fornisce supporto telefonico e anche tramite portale web. Vi accedono e lo utilizzano circa 260 addetti. Nel periodo di passaggio, avverte il presidente Etra, Flavio Frasson, si potranno verificare alcuni rallentamenti nella gestione delle pratiche.